Noi stiamo qua, lavoriamo, diamo lavoro, paghiamo il personale, paghiamo i contributi, paghiamo le tasse, puliamo la spiaggia e veramente stiamo dando tutto per cercare di salvare questa zona che invece le istituzioni stesse ci inquinano continuamente con i canali, col depuratore e con tutto il resto. È veramente una situazione assurda. Dopo il sequestro dello scorso 9 luglio di nove stabilimenti balneari a Giuliano in zona Varcaturo, questa mattina è toccato a otto lidi, accusati di occupare in maniera arbitraria due chilometri di litorale puteolano in zona Licolamare. Il blitz, coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha visto impegnati una trentina di uomini della Capitaneria di Porto di Napoli e di Pozzuoli, guidati dal tenente di Vascello Andrea Pellegrino. Il sequestro arriva dopo sei mesi di indagini serviti per appurare gli eventuali abusi. Secondo le indagini, i lidi sequestrati, oltre ad aver realizzato manufatti abusivi, occupavano abusivamente l'area grazie a concessioni dei maniali marittime scadute, prorogate illegittimamente e in alcuni casi addirittura inesistenti. Le concessioni, infatti, risalirebbero al 2008 senza essere mai state perfezionate dal Comune puteolano, che lo scorso 13 maggio ha invece disposto con un'ordinanza la cessazione dell'attività del Consorzio Marina di Licola. A fronte di questa decisione dell'ente puteolano, però, il Consorzio è ricorso al TAR che gli ha dato ragione. Loro hanno detto che noi non avevamo una concessione demaniale. In realtà, noi siamo i vincitori col Consorzio Marina di Licola di un bando europeo fatto dal Comune di Pozzuoli per l'assegnazione di questa fascia di litorale. Bando che non si è mai concluso per colpa del Comune, alla quale noi abbiamo fatto più volte messo in mora il Comune a espletare tutte le pratiche e a rilasciare questa concessione. Dopodiché il Comune ci ha mandato un'ordinanza di sospensione con un ricorso al TAR, il TAR ci ha dato ragione. Quindi noi siamo a piena titolarità in questo posto. Il TAR, sospendendo l'ordinanza del Comune, ha dunque autorizzato il Consorzio a riprendere l'attività fino al 30 settembre, in attesa della trattazione di merito del ricorso nell'udienza pubblica fissata per il 24 ottobre prossimo. Cercheremo di avere ragione perché per noi questa è una sceriffata fatta solamente per dare immagine a qualche magistrato o a qualcosa. Noi per il periodo, aspettando l'ordinanza del TAR, siamo stati chiusi regolarmente e non abbiamo fatto nessun abuso e nessuna cosa. Questo bene è stato comprato dal Tribunale di Napoli, certificato dal Tribunale di Napoli con tutte le licenze edilizie possibili e immaginabili. Dicendoci che tutto era abusivo, in realtà loro stessi si sono reso conto in due anni e hanno avuto tutta la documentazione perché hanno verificato che questo non era vero.